In un'ora e venti noi andiamo da Cadanzaro a Cosenza con la strada ferrata. Ci vuole adesso con l'autostrada, partendo da Cadanzaro, con il pullman un'ora e mezza. È una ferrovia storica, pensata dai grandi statisti montesi, da Cavour, per unire Torino per il porto di Savona. Questa è una stazione storica? Qui arrivava Inaudi, perché Inaudi da Roma, arrivava qua, scendeva a Monchiero e poi andava verso Doliani, dove aveva le sue tenute e i suoi vigneti. Grazie a tutti.